gentili telespettatori buona giornata da destra e da sinistra arrivano le stesse identiche critiche alla capa schline orlando dice non è in grado sallusti dice non è all'altezza stanno dicendo la stessa identica cosa perché non dà le dimissioni la schline lo fa perché io possa fare tanti video divertenti perché se mi togliete la schline chi mi rimane salvini ecco così sallusti alessandro ospite da lilly gruber sulla 7 a 8 e mezza commenta le vicende del pd che un pd pensava di aver fatto tombola con ellis line no wow abbiamo anche noi la donna capopartito sarà l'alter ego della meloni le due donne più potenti del mondo ne vedremo delle belle non l'hanno vista arrivare adesso l'hanno vista arrivare e hanno visto perfettamente che si è anche nascosta per quello che è successo in emilia romagna allora guardate vi ricordate quando burioni apparve la prima volta in televisione e disse covid in italia probabilità che arrivi zero ecco io da lì ho perso ogni stima per questo burioni pertanto ho detto non si può credere a sola mezza parola di quest'uomo perché se un professionista del settore ti dice una cosa del genere significa che non puoi credere a nessuna sua parola questo è per farvi un paragone quando ho visto la schline sparire con l'alluvione in emilia romagna ho detto questa non è un politico non può essere un politico quindi adesso potete dire fare quello che volete ma una che si nasconde che era vicepresidente dell'emilia romagna e che aveva la delega al clima e dice spunta l'ultimo giorno dicendo dopo nove giorni dicendo io non volevo fuscare i bonaccini io poi cosa mica sono una tecnica non era non avevo mica la delega non avevo mica la delega all'ambiente avevo la delega al clima pensa un po' ecco secondo me una che vi dice e fa queste cose per me non esiste più come politica può fare da adesso in poi qualunque cosa ma per me non esiste più ecco e su questo se ne sono accorti tutti è destra sinistra è solo lei che rimane lì adesso che ha il potere non lo molla più e no oggi sulla prima pagina di libro cioè ieri il direttore ha sottolineato l'abisso tra meloni e schlein beh sì c'è un abisso ovviamente c'è una distanza siderale tra le due leader ma dice sallusti quello che vi dicevo prima io mancano i fondamentali per poter definire la schlein un leader politico zero esperienza zero carisma zero autorevolezza nessun progetto è quello che vi raccontavo prima io dopo che vedi una nascondersi per l'alluvione capisci che è zero assoluto che non è un leader politico dice poi sallusti per il pd è stato come raccattare un giocatore in serie c e metterlo a giocare la finale di champions league solo perché così almeno c'è qualche cosa di nuovo e i paragoni che fa sallusti sono assolutamente calzanti e come prendere un giocatore di serie c metterlo nella finale di coppa del mondo e dire ma era volevo mettere la novità ecco stessa identica cosa hanno preso io non so neanche come sono arrivati a pensare a questa questa ragazza hanno preso una che con la politica cioè è in politica come l'agribaudo ma che di politica loro non proprio sono estranei cioè sono in politica ma non lo ma non ci sono cioè ci sono ma non ci sono ecco concetto poi ribadito venerdì 2 giugno con il programma di la 7 da sallusti che aggiunge se le cose stanno così la destra in una botte di ferro per molto tempo afferma la gruber ma attenzione aggiungo io la destra in una botte di ferro sempre quando non vada a disattendere tutte le promesse elettorali perché la gente le sta guardando è scendiamogli tempo ma se fra qualche mese delle promesse elettorali non ce ne sarà nessuna realizzata tu puoi avere la schline che ti gioca a favore ma se tu poi non realizzi almeno una parte delle promesse che hai fatto elettoralmente gli italiani hanno sempre dimostrato che ti voltano le spalle in un battibaleno guardate renzi è arrivato al 40 poi adesso è al 2 per cento guardate berlusconi al 40 adesso è al 6 per cento guardate la lega dal 34 all 8 per cento guardate grillini dal 34 al 15 oggi c'è fratelli d'italia al 30 per cento ma se all'elettorato non gli realizzi almeno qualche promessa elettorale tu puoi avere la fantastica schline che gioca a tuo favore ma gli italiani ti voltano poi le spalle quindi sallusti sono sicuro come lei che se le cose stanno così la destra sta in una botte di ferro per molto tempo non so però quel per molto tempo quanto è perché quando gli italiani poi si arrabbiano e ti voltano le spalle per te è finita avete visto che quando hanno voltato le spalle per esempio a renzi renzi ha fatto di tutto di tutto ha fatto cadere con niente da quel 2 per cento non si è più schiodato guardate berlusconi guardate salvini salvini che ha cambiato un modo di far politica adesso è più riflessivo parla di meno fa meno post dice meno cavolate ma dall'otto per cento non si muove quando gli italiani ti voltano le spalle è finita è finita a meloni gli italiani non hanno voltato le spalle io dico presidente del consiglio so che non mi ascolta ci mancherebbe altro avrà cose più importanti da fare però mantenga qualche promessa perché se no gli italiani volteranno le spalle come hanno fatto con tutti i predecessori e non è che lei è diversa dice no con me non voltano le spalle oggi non voltano le spalle anche perché non c'è un'alternativa e le stanno dando tempo diamo tempo alla meloni vedrete che vedrete che vedrete che anch'io spero nel vedrete che però il tempo passa prima erano solo due mesi poi erano solo tre mesi poi solo cinque poi solo sei poi solo sette oggi sono oggi possiamo dire che sono solo otto mesi di governo non proprio vero grazie a tutti e arrivederci a presto